Cristiano Ronaldo viene sostituito e se ne va a casa, lascia lo stadio, lascia i suoi compagni, lascia la sua propria squadra, secondo me una mancanza di rispetto assurda, soprattutto in un momento così delicato che la sua squadra stava ancora lottando contro un Milan in una partita abbastanza equilibrata che ancora una volta, per l'ennesima volta, l'ha decisa la panchina con Dybala che segna un gol meraviglioso, lo sappiamo ragazzi, la Juve ha una rosa molto larga e comunque un momento così delicato, lui se ne sbatte, se ne va a casa, secondo me una mancanza di rispetto assurda verso la società, verso i tifosi, ma soprattutto verso i propri compagni che stavano ancora lottando in campo. Cari Juventino, cari Juventini, fatemi sapere la vostra opinione sotto i commenti, voi, tutti quelli che già mi conoscono, sanno la mia filosofia in generale riguardando queste cose, io dico sempre niente e nessuno può e mai sarà grande come la mia Inter, perciò può arrivare un alieno, può arrivare lì o nel Messi, ci vuole sempre rispetto verso questi colori. Voi Juventini fatemi sapere la vostra opinione sotto nei commenti, perché già ho letto delle cose tipo Cescne che già ha detto, eh ma un campione aveva problemi fisici, ci sta, quasi ha giustificato quello che ha fatto Cristiano Ronaldo. Vi voglio lasciare un caso, per fare un piccolo paragone, di un giocatore che per una situazione, un'azione simile, ha dovuto chiudere la sua carriera. Non è stato mai più, mai più nominato, adesso non a livello di club, ma a livello di nazionale. Parliamo di Kevin Curani, anno 2008, ottobre 2008, avevo circa 14 anni, ma me lo ricordo ancora benissimo, perché mi ha fatto impressione. Mi ha fatto davvero impressione quello che è successo più di 10 anni fa, quello che poi è successo negli anni seguenti, nei anni dopo 2018. Allora, qualificazione per i mondiali, Germania-Russia, Kevin Curani, attaccante della Germania, non viene nominato. Lui, anche un sangue molto caldo, mezzo brasiliano, molto deluso, lascia lo stadio di Dortmund e se ne va a casa. Da questo momento un po', ragazzi, non è stato mai più considerato un giocatore della nazionale tedesca. Jogi Löwf ha detto che è stata una mancanza di rispetto assurda verso i propri compagni, verso la nazionale tedesca, e non l'ha mai, ragazzi, mai più nominato. E dovete sapere che c'erano dei periodi dove la Germania, in attacco, avevano dei buoni giocatori a centrocampo, difesa, porta sempre. I portieri tedeschi, italiani sono sempre più forti su questo pianeta, non so perché, sempre una cosa storica. Germania-Italia, anche in questo momento, Germania-Italia c'erano un sacco di portieri forti, ma in attacco la Germania aveva dei problemi. Sì, c'era sempre Miroslav Klose, grande campione, ragazzo molto molto umile, però avevano spesso dei falso nuovi, ma non dei attaccanti puri, no? E Kevin Curani, 26 anni, in questo periodo era uno dei attaccanti puri che ancora non erano rimasti più forti della nazionale tedesca. E c'erano delle stagioni dove lui ha segnato una marea di gol, cioè a livello sportivo veramente si meritava di essere nominato. E Yogi Löw ha detto no, ha detto questo qui mai più, mai più gioca. Cioè, a 26 anni, con un'azione stupida, ha chiuso la sua carriera. Vi dico la mia opinione, secondo me è stato un po' esagerato il comportamento di Yogi Löw, perché ogni persona può sbagliare, basta che ti scusi, basta che sei consapevole di quello che hai fatto. E Curani si è scusato migliaia di volte, ragazzi, quasi a pianto davanti a tutti. È stato davvero molto... è stato impressionante per me. Perciò, secondo me, ovviamente, Yogi Löw ha un po' esagerato, fatemi sapere la vostra opinione nei commenti. Però, dall'altra parte, questo vi dimostra quanto è brutto un gesto di questo tipo. Mentre la tua squadra sta lottando, sta giocando, oh, Juventus-Milan è stata una partita importante ieri per la Juventus. Ed è davvero un gesto molto, molto brutto. Dall'altra parte vi dico anche che Cristiano Ronaldo, senza questi atteggiamenti brutti, non sarebbe Cristiano Ronaldo. Perché Cristiano Ronaldo è un ossessionato, uno che vive solo per il successo. Non è un essere umano, non è un cacciatore, è un'azienda. È un'azienda. È davvero pazzesco. E lui vive di questa ossessione di voler sempre segnare, di voler sempre vincere. Ho visto delle partite dove la sua squadra ha vinto, ma lui non ha segnato ed è uscito tutto incazzato, tutto arrabbiato. Abbiamo visto quando è stato nominato per dei premi a livello internazionale e mondiale, ma ha raggiunto solo il secondo o terzo posto, non è neanche venuto. Perciò da una parte uno può dire, ed è giusto così, brutto. Sono atteggiamenti brutti. Dall'altra parte posso dire che Cristiano Ronaldo è un fenomeno, ragazzi. Un campione a livello calcistico. È assurdo. I suoi numeri sono assurdi. È assurdo quello che lui ha raggiunto insieme con Lionel Messi nella sua carriera. Con quale costanza che stanno giocando da più di dieci anni ogni stagione. Segnano, segnano una marea di gol. È davvero impressionante. E secondo me, ovviamente, c'è il talento di Ronaldo, ma poi c'è proprio questa ossessione. Questa ossessione di voler vincere sempre, di voler segnare sempre. Senza questo, Ronaldo forse sarebbe un grandissimo giocatore, ma non sarebbe Cristiano Ronaldo quello che ha raggiunto. È triste dirlo, non mi piace dirlo, ma secondo me è così, ragazzi. Cristiano Ronaldo senza questa ossessione non sarebbe Cristiano Ronaldo. E nonostante tutto questo, ripeto, da interista la mia filosofia è sempre quella. Nessuno e niente mai sarà grande come l'Inter. Perciò compro anche sempre le maglie, sì, interista e tedesco le metto così perché c'è bisogno di spazio dietro della maglia. Ma io non compro più maglie dei giocatori perché per me, prima di tutto, viene la mia squadra. Gioventini, fatemi sapere la vostra opinione. Allora, adesso vado all'università. Volevo fare questo piccolo video saluto a tutti i miei iscritti di qualità, a tutti gli amanti del calcio. Vi auguro una buona giornata e ci vediamo forse stasera con un altro video. Un abbraccio a tutti e vi voglio bene, ragazzi.